Dopo tre settimane di pausa agonistica coincidenti con la fine del girone di andata all'inizio del ritorno, l'Alba Verde scende in campo nuovamente in trasferta. La squadra nissena sarà infatti impegnata sabato 4 febbraio a Reggio Calabria in casa della Volley Region, formazione che attualmente staziona al decimo posto della classifica. La trasferta oltre stretto è vista con qualche apprensione in casa nissena perché il campo di Reggio è stato sempre difficile da espugnare in quanto vi hanno vinto solo la capolista Zafferana e il Cus Catania e perché le ragazze di Francesca Scollo hanno perso le ultime due gare giocate lontano dal pala Cannizzaro. Il match si disputerà con inizio alle ore 18.30 al pala Color Pellaro. Volley Serie B2 Girone M 14 giornata Procorri e Ricina Pallavolo Crotone Ardenz Comiso Fidelis Torretta Zafferana Funivia Etna Planet Stefanese Brico City Gioiosa Volley Region Alba Verde Saracena Cus Catania Grazie a tutti. Grazie.